Va tutto benissimo. Marty! Devi tornare indietro con me! Ma indietro dove? Indietro nel futuro! Un momento, cosa stai facendo, Doc? Ho bisogno di carburante. Andiamo su, entra in macchina. No, 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 Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui e andiamo a fare un giro con la mia nuova macchina. Porta anche lei! Anche lei si dovrebbe preoccupare. Preoccupare? Ma di che? Ma che diavolo stai dicendo? Cosa ci succede nel futuro? Diventiamo tutti e due delle carogne, degli imbecilli. No, 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 Marty, sia te che Jennifer, non avete problemi. Sono i vostri figli, Marty. Bisogna fare qualcosa per i vostri figli. Doc, devi prendere più rincorsa. Non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88. Strade? Dove stiamo andando? Non c'è bisogno di strade. No, 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 no Department piece.